Eccoci nuovamente in linea, praticamente dopo aver ascoltato questo bellissimo pezzo di Fabrizio Moro che ieri sera ha vinto appunto il festival per la sezione giovani, Fabrizio Moro pensa, dato proprio un successo plebiscitario, è successa una cosa, apriamo una piccola parentesi. C'è stato in questi giorni, proprio giovedì pomeriggio alle 16, sulla passarella del Teatro Ariston, all'ingresso l'esibizione appunto di una sexy star, tra l'altro molto conosciuta in Italia, una sexy star di origine rumena, che in Romagna ormai è proprio una celebrità, non può camminare per strada, che probabilmente deve andare in giro con tanti bodyguard. È un'attrice di grande successo, un'attrice erotica di grande successo. Abbiamo pensato di inserirla perché questa è una notizia che è rimbalzata un po' su tutte le pagine dei giornali, ha cominciato da repubblica.it, per esempio, che sul web è stata presa d'assalta questa notizia, perché non tutti quell'hanno data, però quelli che l'hanno data, l'hanno data in maniera giusta ed esauriente. Il caso di appunto, è successo la protagonista di questa iniziativa, è appunto Alexia Mel, e benvenuta qui a Radio Roma, Alexia. Ciao, buonasera a tutti. Sì. Eccoci. Allora, abbiamo saputo appunto di questa tua performance, tu alle 16 appunto di giovedì scorso, ti sei regata davanti al teatro Ariston e hai messo in mostra le tue grazie. Il perché, vorremmo sapere il perché intanto di questo gesto? Allora, io quest'anno ho fatto un disco e ho cercato in qualche modo di promuoverlo in Italia, e non solo, visto che comunque, essendo una ragazza che fa spettacoli sexy per gli altri, fare la ragazza del strip, insomma, può fare solo quello, non può fare altre cose. Mi ha dato, insomma, un po' di fastidio perché secondo me una ragazza come me può fare sia la cantante che i spettacoli erotici. Io ieri, avanti all'Ariston, ho fatto una piccola esibizione. L'altro ieri, no? L'altro ieri, sì, giovedì alle ore 16, ho fatto un'esibizione. Comunque la gente l'ho vista abbastanza contenta, tutti applaudivano, anche se mi hanno fatto la denuncia per atti osceni. Ma, scusa, un attimo, che cosa è successo ad andare all'Ariston? Tu ti sei soltanto spogliata? Sì, sì, ho levato il capotto, poi è arrivato le forze dell'ordine che mi hanno portato in commissariato. Vabbè, allora perché atti osceni? Tu sei rimasta in topless oppure completamente nuda? No, io sono rimasta in topless, appunto, dico, cioè se vai a vedere la strada... Allora atti osceni ce ne sono state, bellissimo. No, non sono atti osceni, appunto, perché basta che vai in giro per strada, basta che giri i canali e così via. Ma questo si chiama soltanto oltraggio al pudore, che è soltanto una sanzione amministrativa. Il codice penale prevede invece un reato penale per quanto riguarda gli atti osceni luogo pubblico. Ma atti osceni non mi sembra che ce ne siano stati, però mi sembra che ci sia un altro motivo di base per cui tu abbia fatto questa esibizione. Era di attivare l'attenzione e avere la possibilità di parlare, anche perché questa esibizione mi ha dato, dopo la possibilità di parlare avanti alle telecamere, di fare l'intervista in radio e di appare il mio brano, cosa che se non l'avrei fatto forse non mi dava questa possibilità, non riesco a capire perché una ragazza che fa spettacoli sexy non possa anche fare un disco e cantare. Sì, non mi sembra giusto. Senti, però io ho letto una tua piccola intervista. Mi sembra che tu abbia fatto questo anche perché tu hai avuto una denuncia per atti osceni. Hai voluto richiamare l'attenzione su quello che succede invece per le strade, per le strade del sesso, diciamo, dove c'è l'amore per scenario. Noi assistiamo a degli spettacoli incredibili appunto da parte di transessuali che vendono l'amore lungo la strada e praticamente... Appunto, e non succede niente, nessuno dice niente. Sì, completamente nudi che commettono atti osceni, tra l'altro con irregolari sul territorio, appunto clandestini, con a volte decine addirittura di decreti di espulsione sulle spalle. Mi sembra che le forze dell'ordine, le istituzioni, siano completamente indifferenti a questi reati che vengono consumati davanti agli occhi di tutti. Io per esempio una famiglia porta un bambino per strada, si trova... Basta andare poi, tra l'altro, noi abbiamo denunciato moltissimo questa situazione sia al mattatoio appunto di Via Penestina, la zona del mattatoio, dove tra l'altro non si può entrare con le autovetture da mezz'ora prima del tramonto a mezz'ora prima dell'alba e invece praticamente lì, se uno va alle tre di notte, sembra di stare a Viale Marconi alle cinque del pomeriggio. No, no. Poi la pineta di Ostia, lì ci sono personaggi appunto di questo tipo, transessuali, che sono completamente nudi e spesso commettono anche atti osceni in luogo pubblico. In quel caso non c'è stato nessun tipo di denuncia. Invece nel caso tuo, che ti metti in topless di fronte al teatro Ariston, addirittura hai beccato la denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Io ho beccato la denuncia per atti osceni e il foglio di Via, quindi domani mi dovrei presentare in questura a Roma. secondo me non è un atto oscena, è stato un gesto carino, la gente è stata molto carina, la gente ha applaudito. Le forze dell'ordine uguali sono state molto gentili, basta che va al mare, insomma, al topless. Perciò atti osceni non ce ne sono stati, però questo era pure un modo per protestare di fronte a questa indifferenza. Era una forma di protesta in qualche modo, perché sembra che è l'unico modo per poter dare, creare attenzione, è questo. Va bene, comunque io abbiamo voluto fare, aprire questa piccola parentesi, mi sembrava doveroso, perché Sanremo quest'anno è stato anche questo, oltre al vincitore appunto Fabrizio Moro ieri sera, c'è stata anche l'esibizione appunto di XAMEL fuori dal teatro Ariston, faceva parte anche questo della Chermessi Sanremo, del grande carrozzone che quel festival di Saremo ogni anno, imbastisce appunto nella città appunto dei fiori, sulla riviera Ligure di Ponente, e praticamente, e poi vai in Eurovisione. Anche lo striptease appunto di Alexia Melle, che è anche cantato tra l'altro lì davanti, davanti all'Ariston, praticamente fa parte appunto di tutto quello che è stata la storia del festival di quest'anno. Noi Alexia ti ringraziamo tantissimo per questo intervento. Anche io vi ringrazio. E poi naturalmente è in bocca a l'uva per il tuo lavoro allora. Vi ringrazio molto, buonasera. Di nuovo allora, di nuovo un saluto da Alexia Melle.